A Tenerife si sperimentano nuove forme di tutela, come il programma di salvaguardia dei pappagalli, realizzato dalla Fondazione Loro Parche di Puerto de la Cruz, un'istituzione privata no profit che opera a livello internazionale per mantenere la biodiversità degli ambienti naturali e raccoglie fondi per gli studi e ricerche, campagne di sensibilizzazione e progetti di conservazione delle specie in pericolo di istituzione. Il loro parche si estende per oltre 125.000 metri quadrati, è uno zoo, acquario, delfinario, parco botanico e soprattutto vanta la più grande collezione di pappagalli al mondo. Rafter data baby Molti gli spettacoli dal vivo, tra cui i leoni marini, i delfini, i rapaci ed uno spettacolo unico nel suo genere, le orche. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione